Viale San Francesco, a Riva del Garda, uno dei principali accessi al cuore storico della città, ha riaperto il transito nella nuova veste urbana, con la pavimentazione a Bolognini e le nuove palme nelle aiuole. Si tratta della conclusione di lavori, iniziati qualche anno fa, che ha visto il cambiamento radicale della via che conduce da Piazza Garibaldi fino a Largo Bensheim. I lavori erano partiti all'inizio di febbraio, ma hanno subito un ritardo di circa un mese a causa di interventi imprevisti sulla rete dei sottoservizi. Il costo preventivato dell'intervento era di circa 700 mila euro, rispetto al quale la ditta che si è aggiudicata all'opera ha presentato un ribasso a base d'asta del 33%. Sono stati eliminati i posti auto sulla parte sud del viale, ma l'accesso con senso unico rimane senza limitazioni, anche per questioni di obblighi normativi e per garantire l'accesso ai parcheggi pertinenziali dei negozi. Risorse finanziarie permettendo, uno degli obiettivi del Comune per il prossimo futuro è quello di estendere la red urbano anche all'asse che, partendo proprio dal nuovo viale San Francesco, percorre via Scaligero e la zona est del canale della Rocca, sino alla parte antistante la spiaggia degli Ulivi.